Vice sindaco Bellisari, rilancio del territorio comunale di Pietracamela attraverso quali azioni e quali opere? Naturalmente attraverso la realizzazione di interventi che nel tempo sono mancati, attività ed interventi, e poi rilancio dei prati itivo. Per quanto riguarda i prati itivo sono in corso opere importanti come la prossima riapertura del campeggio che è stato dotato di servizi e della ristrutturazione e rifugio delle guide che è in via di definizione, oltre al fatto che la provincia ha riasfaltato tutto l'anello e la strada e il piazzale di accesso. Il rifugio delle guide cosa ne farete? Il rifugio delle guide sarà un ristorante con una capienza adeguata in un posto eccezionale. Il locale è completamente ristrutturato, i lavori sono quasi a termine. Poi c'è Piera Camela, è stato realizzato un locale per alimentari e locale di ristoro, pub, che è stato dato in gestione e a breve aprirà. Poi è stata realizzata la sede del COC per la protezione civile, verrà realizzato un distributore di carburante, è stata adeguata l'illuminazione elettrica con lampade a led, quindi un efficientamento sostanziale, è stata realizzata la ristrutturazione dell'intero complesso sportivo ed è stata realizzata una nuova area, parco giochi. Quindi sono opere che riqualificano il capoluogo e danno respiro e potenzialità. Intermesoli, stiamo sulla stessa linea, opere importanti, sono in corso e avranno opere finanziate e in parte già realizzate che sono tutte in via di definizione.